Il piano proposto dal governo, parliamo del recovery plan, è sufficientemente strutturato per aprire un confronto che deve essere aperto alle parti sociali, alle organizzazioni del civismo attivo, all'intelligenza diffusa che si occupa già di questi temi che sono oggetto del piano. Questa idea, questa affermazione, in questo caso non è metodo ma è anche sostanza per ciò di cui vi parlerò brevemente, ovvero sia cogliere l'opportunità del piano, del recovery plan, per uno sviluppo senza precedenti della democrazia economica in Italia. Ovviamente questa non è un'area di spesa, non è un progetto da finanziare, è una modalità col quale fare tutti i progetti in tutte le aree di spesa del piano. Ed è importante però per due ragioni fondamentali. Il primo è che la democrazia economica è la miglior garanzia che il piano persegue i suoi fini ambientali, sociali, di sviluppo dell'occupazione, e cioè che i vari progetti di innovazione tecnologica, di sviluppo delle infrastrutture, di risanamento urbano, di investimento nella ricerca e nel rapporto tra ricerca e impresa, servano a creare occupazione buona e stabile, a ridurre le disuguaglianze, a perseguire effettivamente la riconversione verde delle economie e la giustizia verde, ovvero ambientali. La seconda ragione è che ridurre le disuguaglianze nella distribuzione dei poteri e quindi avere maggiore democrazia industriale è la precondizione per la riduzione delle disuguaglianze di reddito e ricchezza, perché queste si creano a causa del fatto che prima vi è iniquità nei poteri. I posti per la democrazia economica possono essere riassunte in tre. Primo, articolare a livello territoriale il metodo del dialogo sociale, comitati per la responsabilità sociale condivisa nella coprogettazione, attuazione, monitoraggio dei diversi progetti che coinvolgano insieme ai governi regionali e locali, le associazioni delle imprese, quelle sindacali dei lavoratori, le associazioni della cittadinanza attiva, le università, il mondo non profit, in modo che la democrazia deliberativa accompagna l'applicazione del piano piuttosto che negoziati volti più a ottenere risorse che per seguire le finalità. Secondo, fare in modo che tutte le imprese che in vario modo si avverranno delle risorse del piano creino forme di partecipazione dei lavoratori e delle comunità ambientali al governo d'impresa. Cosa significa? Significa la creazione dei consigli del lavoro e della cittadinanza in impresa attraverso le quali si può ottenere che tutti i lavoratori della filiera, oltre che delle imprese, e le comunità locali partecipino, siano informate, esprimono opinioni e anche abbiano poteri di codecisione in modo tale che i vari interventi che saranno realizzati dalle imprese perseguono effettivamente quelle finalità sociali, ambientali ed economiche che hanno a cuore e che servano a loro volta alla riduzione di disuguaglianze di reddito, potere, oltre che ricchezza. E infine, laddove vi è un servizio pubblico da sviluppare, laddove vi è un bene comune da creare attraverso questi progetti, si ricorra diffusamente al modello, al sistema dell'impresa sociale democratica di tipo cooperativo, che è un'impresa particolare, un'impresa che da una parte ha nel suo scopo sociale il perseguimento di un interesse pubblico, dall'altra parte essendo democratica realizza la partecipazione, quindi persegue le capacità e i funzionamenti di diversi soggetti, realizzando quella democrazia economica e industriale che è una delle componenti della riduzione delle disuguaglianze e quindi di una delle finalità sociali principali del piano. Grazie. Grazie.